Nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno setacciato le strade della città. I militari della compagnia Oplontina hanno effettuato i servizi insieme ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, al NAS di Napoli e agli agenti della polizia locale. 82 persone identificate, 39 veicoli controllati, per un totale di 57 sanzioni al codice della strada. Denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 37enne di Torre del Greco. I carabinieri lo hanno fermato durante un posto di controllo rafforzato, trovato in suo possesso uno sfolagente artigianale e un coltello a seramanico di 16 centimetri. Denunciato anche il titolare di una salumeria a via dei mille, moltiplici le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro contestate all'uomo. Per lui sanzioni per un importo complessivo di quasi 17.000 euro e sequestro di 10 kg di cani non tracciate. L'attività è stata sospesa. Durante il controllo i carabinieri hanno denunciato a piede libero i due operai trovati all'interno dell'attività commerciale perché lavoravano in nero nonostante beneficiassero del reddito di cittadinanza. Denunciato infine un 66enne di Castellammare di Stabia, già noto alle forze dell'ordine, in qualità di amministratore di una società di via terragneta. Diverse rivelazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro contestate all'uomo. L'invenuto è sequestrato anche un impianto di videosorveglianza abusivo. Sanzioni per quasi 19.000 euro.